Uno scambio per mettere d'accordo tutti. Questa la voce che oggi ha infiammato i quasi 700 chilometri che dividono Monaco di Baviera da Torino. Benjamin Pavard sarebbe pronto a fare le valigie a salutare il Bayern Monaco dopo due anni di onorato servizio. Al posto suo, i bavaresi pare abbiano scelto Artur Menno. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla Juventus nell'ambito della trattativa che ha portato Pjanic al Barcellona, non ha mai convinto in bianco-nero. Per lui, anche quest'anno tante panchine e quasi mai la fiducia necessaria per imporsi in un ruolo complesso come quello del regista centrale. E allora uno scambio, dicevamo, con Pavard proposto dal Bayern Monaco ad una Juventus fatiscente e Artur pronto a prendere il posto dei partenti Tolisso e Roca in Baviera. Sarebbe contento Allegri, che aggiungerebbe l'ennesimo calciatore d'utile alla sua scuderia, e sarebbe contento Nagelsmann, almeno secondo il quotidiano tedesco che oggi ha lanciato l'ennesima bomba. Secondo le fondi tedesche, infatti, l'affare potrebbe essere addirittura proposto dal Bayern Monaco, che in questo modo risolverebbe due problemi con uno scambio. Le prossime settimane saranno dunque decisive per verificare se, effettivamente, questo scambio potrà mettere d'accordo tutti. Ciò che è certo è che la Juventus a gennaio si muoverà sul mercato, un po' per restituire credibilità al progetto Allegri, e un po' perché la classifica di oggi non può di certo soddisfare una squadra partita per detronizzare l'Inter da campione d'Italia.